Siamo qui per dimostrare la vicinanza alle istituzioni locali ma anche un'attenzione massima ai cittadini. Lo ha detto il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciadamella, parlando con i giornalisti, a margine della riunione del Comitato per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica sui diversi episodi di criminalità verificatisi negli ultimi giorni nell'alto tirreno cosentino e nello Ionio. Ovviamente la percezione di insicurezza che si determina in questi casi certamente non è perfettamente allineata con quella che è la risposta dello Stato perché voi sapete le dinamiche sono diverse anche dal punto di vista investigativo la risposta è più lenta ma voglio rassicurare alle popolazioni che c'è la massima attenzione. Ovviamente è un'occasione questa dei comitati di attivare strategie comuni, di creare una rete fra tutte le istituzioni e anche la presenza dell'autorità giudiziaria stasera è importante proprio per far in modo da dare una risposta condivisa e una risposta concreta e fattuale dello Stato contro questi episodi. L'aspetto preoccupante è che sono mesi che tutte le notti ci sono delle macchine incendiate e evidentemente si ha l'impressione che ci sia un'impunità perché altrimenti non si spiegherebbe il fatto che osano attaccare direttamente le istituzioni sia prima con il fatto ben più grave cioè con l'attentato incendiario alla macchina del Presidente del Consiglio e poi tranquillamente si pensa che si possono inviare i camion dei pompieri o le casse da morto al sindaco o un assessore con in oscialanza. Evidentemente qualcosa che non sta funzionando c'è, sono certo non per la mancanza di impegno delle forze dell'ordine ma perché probabilmente c'è bisogno di strumenti e di un'attenzione diversa. Non penso che sia un problema di distanza, è un problema piuttosto di strutture, di mezzi, di uomini e qui qualcosina bisogna fare e soprattutto consentitemi un problema anche di collaborazione delle persone che dovrebbero metterci anche in condizione di offrirci quegli elementi conoscitivi che hanno anche se apparentemente per loro poco significanti che ci consentono di orientare il lavoro. Però noi ci siamo comunque, tengo a dire questo, con molto ottimismo perché ci siamo. Io ho pensato di individuare un gruppo di colleghi che si occuperanno d'ora in poi esclusivamente di questo fenomeno pur nelle difficoltà dei mezzi di cui parlavo prima. Abbiamo la massima collaborazione possibile, speriamo di fare il meglio e che soprattutto le persone abbiano fiducia e abbiano anche la possibilità di darci degli elementi che possano orientare il nostro lavoro.